La partita sabato sarà una partita molto importante, è una partita che secondo me bisogna approcciare bene, bisogna approcciare con la giusta mentalità, la giusta aggressività, bisogna iniziare a capire che le partite non sono tutte uguali, questa non è uguale agli altri e non lo è anche perché siamo in casa, perché dobbiamo iniziare a far sentire, anche se non c'è pubblico, ma questo è da tutte le parti, e quindi dobbiamo far sentire un po' il fattore campo e questo si fa sentire semplicemente alzando ovviamente l'intensità difensiva. In questo campionato non si può sottovalutare nessuno, Broni è una squadra che quest'anno ha fatto benissimo gli altri anni, l'anno scorso e anche due anni fa era la squadra di rivelazione del campionato, ha avuto dei problemi con delle straniere e quindi ovviamente è partita così, però assolutamente ha un'identità importante, ha un'identità di squadra, ha delle giocatrici italiane molto interessanti come Orazio, come Madera, che è una molto interessante dentro il giro della nazionale, quindi è una squadra assolutamente da prendere di petto, da aggredire, da fargli ragionare, da cercare di incastrarli nel nostro tipo di sistema. Stiamo allenando bene, già da una settimana avevamo qualche problema, ovviamente di condizione, rientro dalla situazione del Covid, devo ringraziare la società, devo ringraziare Roberto, devo ringraziare Giovanni e Federico che mi hanno dato la possibilità di alzare l'intensità utilizzando quattro ragazzi e quindi ho potuto cercare di alzare l'intensità fisica e questo per me è una cosa molto importante e quindi abbiamo fatto delle settimane importanti che quest'anno, anche quest'anno, anche questa settimana abbiamo lavorato veramente bene da quel punto di vista. Stiamo recuperando le infortunate, il fatto che Fechette abbia fatto le ultime due partite, anche a Costa secondo me, ho avuto i primi segnali di positività da questo punto di vista e una cosa che a noi interessa e giova molto.